E lasciamo la politica perché è arrivato il momento di presentarvi la nostra ospite di oggi, Eleonora Frattarolo. Buongiorno. Allora, lei ha la direzione artistica di una mostra allestita alla Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi, nel Bolognese. Prima di parlare dell'esposizione, anche per capirla meglio, dobbiamo però almeno accennare a questo castello così particolare, dalla storia e dall'architettura così particolari. Certo, grazie per avermi invitata innanzitutto. Sì, noi come studio trasguardo dal 2012 ci occupiamo di un progetto di valorizzazione del territorio di Grizzana Morandi, a partire dalla casa studio Giorgio Morandi ai fini del Campiaro. E quest'anno la Rocchetta Mattei, questo splendido pensiero di Cesare Mattei, questa splendida utopia che è diventata a peso specifico e architettura, un'architettura eclettica. I lavori iniziano nel 1850, quindi nel pieno del... della fioritura eclettica europea. Cesare Mattei era un uomo colto, era un uomo particolarmente forte dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della volontà e del desiderio di realizzare un sogno che fosse strettamente collegato a quella che era la sua pratica terapeutica. Mattei è l'inventore dell'elettromeopatia, una pratica terapeutica nota dalla Russia all'India e a variazioni del mondo. E vi è una casa editrice di Calcutta che ancora oggi pubblica le opere di Cesare Mattei. E qui come stiamo vedendo c'è il restauro che è stato effettuato dalla Fondazione Cassi di Risparmio di Bologna, che finalmente ha reso di nuovo disponibile al pubblico questo luogo così particolare. La fondazione della Cassi di Risparmio anni fa l'acquistò presidente Fabio Roversi Monaco e dopo averla restaurata in parte, in gran parte, vi è una zona ancora non restaurata, ma tutta la zona restaurata attraverso un restauro davvero molto interessante ha fatto in modo che possa essere stata aperta al pubblico. E voi avete pensato di farci una mostra, la prima, no? In questo castello arriviamo appunto alla sua esposizione. Certo, il comune di Grizana Morandi ha avuto dalla Fondazione della Cassi di Risparmio in Bologna la possibilità di gestire la rocchetta e dunque attraverso un gioco di squadra, perché sempre operazioni di questo tipo sono il frutto di una collaborazione fra diversi enti e istituzioni e voglio citare innanzitutto ancora il comune di Grizana e poi l'Unione degli Appennini e poi la Regione Emilia Romagna e quest'anno la collaborazione di Cubo Unipol che lavora insieme a noi per la realizzazione di una parte di questa mostra del catalogo in particolare. Stiamo vedendo già le immagini, cosa si può vedere in questa mostra? Beh, si possono vedere stanza della meraviglia, esotismo, fantastico, incanto, sicuramente esotismo perché l'eclettismo di Mattei come l'eclettismo europeo e non europeo aggruma attorno a sé davvero una possibilità di immaginazione straordinaria. Sono 17 gli artisti che abbiamo in mostra a partire da Alberto Savigno e poi Davide Rivalta, Mirta Carroli, Omar Galliani, Ettore Frani, Nicola Samori, Luca Lanzia, Amir Sharif Pur, Simone Pellegrini, Maria Elisabetta Novello, Vittorio Corsini, Piero Pizzi Cannella, Francesco Bocchini, Sima Schafti, Elisia Tanatos, Lemeck 42 e Guido Scarabotto. Con un allestimento che appunto si integra in questo luogo. Beh, questa mostra è stata concepita in questo modo, grazie appunto allo studio Trasguardo, a Luciano Leonotti che si occupa del concepimento degli allestimenti, della fotografia e dell'immagine coordinata. È stata concepita come se ogni stanza germinasse un'opera e quindi come se ogni opera fosse nata esattamente in quel luogo. Ecco, questa è una veduta meravigliosa dei due vasi alchemici, Ricopertidori e Elisa Tanatos. Ricordiamo infine, solo abbiamo, c'è rimasto poco tempo, dobbiamo dire fino a quando si può vedere questa mostra. Fino alla fine di ottobre, mentre nello stesso territorio, in relazione alla Casa Museo Giorgio Morandi e ai fini del Campiaro, due mostre molto interessanti dedicate l'una a Luigi Ghirri, in relazione a Morandi e l'altra di Enrico Fantini, curate da Luciano Leonotti, sempre nel nostro studio Trasguardo. Ringraziamo la nostra ospite, allora, Eleonora Flattarolo. Grazie a voi. E andiamo avanti con il Tg, con la pagina sportiva.